Con occhi di clown per guardare il mondo a testa in giù. Questo è il titolo del libro che vi presentiamo questa settimana a tra le righe. Do il benvenuto all'autrice di questo libro edito da Ancora, Luisa Vassallo. Ciao, benvenuta. Ciao, ciao, grazie e saluti a tutti gli amici di Padre Pio TV. Allora, hai una passione per il teatro, per la clown therapy. Il tuo nome d'arte è Pimpinella, ami il colore arancione, vorresti imparare a ballare il tip tap. E la cosa particolare è che sei, lavori per la provincia di Imperia e sei guida nella villa Grock. Io partirei proprio da qui, da questa tua passione e soprattutto chi era Grock. Ti trovi per un caso della vita a guidare i turisti nella villa di uno dei più grandi clown del mondo, insomma. Esatto, sì. E chi era Grock, vabbè, in pochissime parole, uno dei tanti clown per caso. Lui aveva questa passione, però da piccolino non sapeva nemmeno che cos'era il circo, che cos'era il clown. Ha scoperto il circo a sei anni, da piccolo piccolo, da quel giorno per sempre, lui è rimasto innamorato a questo mondo. C'è una frase che amo raccontare ai turisti quando vengono, che definiscono il bambino Grock, che poi il vero nome era Adrian Vettac, secondo questa definizione. Lui in un certo senso diceva, era molto povero, diceva siccome non avevo niente, giocavo con tutto. Da lì nasce il clown, perché è un bambino che scopre che il mondo è un grande dono, è un'occasione per stupirsi. Altro non può che finire nel mondo del clown, perché il mondo del clown è il luogo dove con tanta leggerezza ci si stupisce e si è grati della vita. Ecco, Luisa, da dove nasce l'idea di scrivere un libro? Un libro in cui si trovano racconti di pagliacci, di artisti, di scienziati, anche di santi, che a loro modo sono stati anche un po' clown. C'è un... fai una lista di parole strepitose, parole da non usare, che tu chiami parolacce, per chi appunto si approccia al mondo dell'arte del clown e fai anche... inserisci anche alcuni esercizi per muovere i primi passi appunto in questo ambito, che è quello dell'essere clown. Ecco, da dove nasce l'esigenza di mettere tutto insieme e di farne un libro? Da dove nasce? Non lo so, è un'esplosione che ho sentito nel cuore e l'editore ancora ha accolto questa gioia di condividere quello che avevo da raccontare. Allora io, in poche parole, io non sono un clown, anche se gioco, anche se vado in giro, anche se sono a Villa Groquet, non sono un clown con la C maiuscola, non sono una professionista, però da bambina amavo andare al circo, adoravo i clown, ho conosciuto clown nella mia vita e piano piano il destino mi ha preso per mano, mi ha portato a fare un'esperienza da clown dottore, appunto anche se purtroppo tante volte il lavoro mi impedisce di fare questo con frequenza, vado in pediatria negli ospedali locali per portare il sorriso nelle stanze, soprattutto per cambiare la dinamica, l'aria che c'è nelle stanze. Noi non siamo dei dottori, non siamo niente, però possiamo modificare con il sorriso e con la leggerezza quella, quel dolore, quella pesantezza che magari si è creata nella stanza. Tutta una mia vita, diciamo che è capitato per caso o forse per destino, non so come dire. Per dioincidenza magari, per dioincidenza, mi piace utilizzare questo termine. Siccome un passo dopo l'altro mi sono capitate delle cose veramente meravigliose, ho scoperto che essere clown, ognuno di noi è un pochino un clown dentro, nel cuore, perché il clown non è un eroe, non salva nessuno, il clown non è, anche se lo vogliono dipingere in certi film che è meglio non guardare, dipingono assassini, ma questi non sono clown. Il clown è il fallito, è la persona che non ce la fa, è la persona che sbaglia, è la persona che prende le testate nel muro, che non capisce niente, che non combina niente di buono. Il clown è tutti noi, perché è difficile essere perfetti dal mattino alla sera e in tutto l'arco della giornata. Però il clown ci insegna una cosa, ci insegna che con lo stupore e con la gratitudine si va avanti. Se posso dire una cosa, è un esempio che faccio sempre ai turisti quando vengono a Villa Grock, perché a Villa Grock c'è una frase che Grock ha voluto scrivere nel parco per aspera ad astra, ovviamente non è una frase di un clown, è una frase latina, antica, e ci siamo chiesti tante volte come mai una frase così impegnativa è nella dimora di un clown, significa per mezzo delle asperità, per mezzo delle difficoltà agli astri, è una bella frase. Cosa c'entra col clown? Perché il clown vive nelle difficoltà, vive nelle asperità, però questa frase dice per mezzo delle difficoltà agli astri, che cosa permette al clown di non naufragare nella tragedia, di non chiudere mai gli occhi, come fa il personaggio tragico che al termine della tragedia cade sul palco e muore, come fa? Perché il clown che sembra stupido, in realtà è stupito, l'etimologia lega le due parole comunque, il clown attraverso lo stupore anche al culmine della sua tragedia tiene gli occhi aperti e se vede una briciola di bellezza al di là del male, della sofferenza che vive, quella bellezza lo porta fino alle stelle e questa è una cosa che volevo raccontare non solo nelle stanze di Villa Groc, non solo nel parco, ma possibilmente a tutte le persone che prenderanno in mano questo libro, perché mi sembra che sia una cosa da ricordarci. Luisa, c'è un capitolo intitolato Clown per caso, una galleria strampalata, ma non troppo di volti e storie e ci sono appunto i riferimenti biografici di clown veri e propri, poi anche di personaggi scienziati, cantanti anche, santi scrittori, che hanno in qualche modo rappresentato attraverso la loro vita, il loro essere, le loro azioni, un po' l'arte di essere clown. Vuoi indicarcene uno per categoria? Un clown reale, vero e poi, sì, lascio a te la scelta. Sì, allora un clown reale, oddio ce ne sono tantissimi, uno l'abbiamo citato è Groc, che tra l'altro, ecco dico una particolarità, siamo appena entrati nel 2019, cento anni fa esatti, Adrien Vettac, in arte Groc, è stato intitolato, nominato, insomma premiato, re dei clown. Quindi veramente il, boh, un grande maestro dal punto di vista dell'arte, di tutti i clown. E quindi insomma, come lui, poi Charlie Chaplin, che anche se non aveva il naso rosso, comunque è stato un favoloso, un formidabile clown, caso strano, amico di Groc, si vede che la vita doveva farli incontrare, così come tanti altri, anche appartenenti al mondo del circo, sono numerosissimi. Il clown per caso, invece, ho citato grandi nomi, a partire dalla lettera A, che ci fa ritrovare Albert Einstein, Baldassarre, uno dei remati, rappresenta tutti, Dio, io mi sono permessa di citare anche Dio, perché sento che Dio è veramente un grandissimo clown, lo dico con grande riverenza, non si pensi che in questo momento voglio essere, ne blasfema, ne niente, ci mancherebbe, è la gioia, è l'allegria, così si dice nel mondo dei clown, che ha permesso a Dio di creare l'universo. Il Big Ben, altro non è che uno scoppio di gioia, una risata piena di felicità, che ha dato il via alla creazione, al mondo. Se la creazione non nasceva dalla gioia, beh, poteva nascere dall'amore, ma sono la stessa cosa, tutto sommato, quindi, boh, così, ce ne sono tanti altri. Tanti altri, e poi naturalmente, ecco, rimandiamo ai nostri telespettatori alla lettura di questo libro, libro che davvero si può leggere anche non andando in ordine dalla prima all'ultima pagina, ma anche prendendo un po' da un capitolo, un po' da un altro. Ce n'è uno che mi ha conquistata, ed è il vocabolario clown, con le parole giuste, le parole che tu definisci strepitose, e le parole parolacce, ma non perché siano offensive, ma sono quelle parole che non bisogna utilizzare. Anche qui una scelta, una parola che dobbiamo utilizzare, e un'altra che è meglio dimenticare. Allora, parto dalla lettera A, ma è la migliore, insomma, la parola addirittura è una delle parole che dovremmo usare di più, ovviamente anche tutte le altre che ho elencato, le adoro, e appunto spero che i lettori vogliano, si incuriosiscono e vogliano andarle a vedere, imparare questo nuovo modo di parlare. Addirittura perché ogni cosa è addirittura qualcosa, e qua si va al negativo, nelle parolacce ci sarebbe la parola soltanto, le due cose vanno a braccetto. Da una parte, se io raccolgo un sasso sulla spiaggia, non posso permettermi di dire è soltanto un sasso, dovrò dire, se sono grato alla vita, al mistero che ha creato le cose, dovrò dire ho raccolto addirittura un sasso. Così, nelle parolacce ci si era la parola soltanto, che non potrò mai dire ho raccolto soltanto un sasso, è vietato assolutamente dire la parola ormai, è una parola che da quando ero ragazzina, da quando ero piccola, la parola ormai proprio mi uccide dentro, non si dice, non bisogna dire ormai assolutamente, è una disperazione, non va bene. Hai ragione, assolutamente d'accordo con te, e poi naturalmente lasciamo anche nelle ultime pagine, per saperne di più, ci sono delle biografie clown, la poetica clown, e tante altre indicazioni, anche siti internet e tecniche clown, insieme alla teatrografia e la filmografia che appunto riguarda questo affascinante argomento, quest'arte, che è quella del clown. Grazie per essere stata con noi, Luisa, ti ringrazio davvero di cuore, grazie anche per aver scritto questo libro, che davvero riempie di gioia, è un libro che consiglio davvero ai nostri amici telespettatori, anche se magari non hanno voglia di cimentarsi, non vorranno diventare dall'oggi al domani clown, però insomma hanno voglia, io consiglio il vocabolario, è quello che mi ha colpito e mi ha conquistato, ma anche i vari volti e le storie di clown noti e meno, e anche appunto persone che non sono clown, anche quello mi ha conquistato, davvero interessante, con occhi di clown, per guardare il mondo, a testa e in giù, a firma di Luisa Vassallo, eccolo qui, ce l'ho tra le mani, e vedete la bella copertina con in copertina la stessa Luisa, edito da Ancora. Grazie ancora di cuore e spero di risentirti e rivederti presto per un'altra intervista. Grazie. Grazie, grazie di cuore anche a voi, un saluto a tutti, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.